Grazie a tutti. ...delle agenzie per allestimenti di feste per bambini a Firenze, in Toscana. Specializzata appunto in eventi per bambini in Toscana. In Toscana. Ecco, con lui stiamo realizzando una crema di peperoni che una volta crudi, frullati, vanno a finire nella pentola e bene di girarli. E uniremo del petto di pollo a fettine che poi con la tavola di piccoli cuochi diventerà un piatto etnico di cui abbiamo parlato, unito al curry e ad altri ingredienti. Ingredienti, piatto etnico che ha comunque un valore, in un certo senso, se mangiato sistematicamente con delle spezie sistematiche nella vostra vita, potrà avere un valore nel combattere i tumori. Allora, noi stavamo però parlando col dottor Bertini, mentre il nostro Alessandro Malotti è lì che scalpita perché c'è una bavarese ai di osperi che ci fa proprio venire voglia di essere fatta subito, di assaggiarla. Ecco, col dottor Bertini stavamo affrontando il problema della carne. Secondo appunto l'indagine fatta e resa palese dall'Unione Mondiale della Sanità, la carne di un certo tipo, quindi la carne alla griglia e la carne negli insaccati, salsicce, brustere eccetera eccetera, dovrebbe essere proibita. Va bene, perché cancerogena? E con Luca stavamo facendo questo discorso che spero abbiate recepito bene. Ti abbiamo poi interrotto con la pubblicità, mentre dicevi... Vi racconto una cosa interessante. Si è parlato del veganesimo, che anche lì il problema è che quasi la maggior parte delle verdure, dei fagioli, lenticchie, dovrebbero essere prive di fitofarmaci. La cosa è veramente poco probabile perché non si riuscirebbero a raggiungere certe quantità con certi prezzi lavorando solo biologico. Si può fare, ma i prezzi si sa sono altissimi. Infatti ormai noi aiutiamo a conoscere certi tipi di aziende anche che fanno del biologico, proprio una loro filosofia o anche quella col diretti, noi abbiamo fatto diverse trasmissioni. Quindi comunque è vero, abbiamo mele con baco, meno belle, più vere per dire le mele, ma così anche le verdure eccetera eccetera. E quindi? E quindi, non mi ricordo il nome perché è questa cosa che risale a qualche anno fa, hanno preso un americano, che è quello più fissato, i vegetariani che esistono, quello biologico assoluto. Vive in mezzo a uno stato tipo Iowa, Carolina, dove non c'è niente. Dove lui si coltiva tutto, ancora con gli escrementi degli animali per concimare, segue tutti i ritmi biologici. Cioè lui vive come cento, duecento, trecento anni fa, si crea tutto. Gli hanno fatto l'esame del capello e era pieno di sostanze tossiche anche lui. Davvero? Certo. Fumava, fumava. No, le piogge, il vento, le piogge. Cioè quello che, sì, dalla Cina te lo portano in America. Ora Cina è soltanto per dire un posto lontano e non vorrei essere frainteso. Però, quello che fanno, irrigano magari con gli aerei, perché in America, negli Stati Uniti, usano gli aerei per dare il veleno al mais. Beh, una pioggia, un vento forte, il tornado, tirano su anche questi fitofanoci e li sparano anche da altre parti. Quindi, non esiste niente di sicuro, non esiste niente di garantito. Potremmo quasi dire che tutto fa male, ma cosa dobbiamo fare? Variare. Questo penso sia una delle, i nostri nonni lo dicevano, variate l'acqua, variate la carne, variate la pasta, le marche. Ecco, lì avete già più sicurezza. E come mi piace dire, qui Anna Maria vi insegna cos'è la qualità, vi presenta alle persone che vi portano l'eccellenza. Il prezzo e dove è stato fatto fa la differenza. Quindi, il chilometro zero qual è il lato positivo? Che voi, se volete, potete andare a vedere come viene coltivato. Quindi andate proprio a vedere con i vostri occhi. Se non potete, ci sono i siti internet o se no, guardate, il prezzo purtroppo fa la differenza. Quello che costa di più, generalmente, è migliore. Bene, grazie Luca. Adesso torniamo immediatamente però alla tavola dei piccoli cuochi, che è il nostro appuntamento del venerdì. Icon abbiamo Zoe, Federica, Damiano, Niccolò, di cui avete ieri scoperto l'età. E poi mi sembra che ci sia anche un'altra bellissima bambina, che è Aurora, e che è appunto la figlia di Alessandro, della fata turchina. Alla tavola dei piccoli cuochi? Prego. Ciao a tutti, benissimo. Siamo qua, in pieno colore, in pieni profumi che arrivano da questi fornelli. E abbiamo degli ingredienti che ci piacciono tantissimo, perché sono colorati, perché finalmente danno un po' di vita a queste tavole e soprattutto raccontano moltissimo della loro età. Con noi Alessandro Dalidi di Fata Turchina, che ci sta animando la serata e soprattutto ci farà stupire con tanti tantissimi trucchi che ci piacciono, perché è anche questo un modo di cucinare, di imparare a cucinare, originale. Però proviamolo, perché questo signore qua, questo ragazzo direi, ha levato intere generazioni di piccoli e medi fiorentini, con metà, con le sue feste e con le sue animazioni. Però, bando alle ciance, come dico sempre, e iniziamo a cucinare. Le maniche sono già arrotolate, per cui direi di provare. Alessandro, avvicinati, proviamo con questa banda qui di sciagurati. Venerdì vi potete immaginare, fine interrogazione, fine scuola, che cosa ci racconteranno, ma vale la pena chiedergli qualcosa. Allora, iniziamo sempre, anzi, continuiamo, perché là sta cuocendo un pollo con i peperoni. Sì, allora, il pollo lo dobbiamo ancora mettere, anzi, avrei bisogno della padella e dell'olio. Giovani aiutanti, a voi. Noi passiamo questa padella, che sta arrivando, eccola qua. Eccola qua. Che è una cassa e uova normalissima, che troviamo nelle nostre case, quindi nulla di trascendentale, ma una cosa molto pratica. Ore 18.40, ve l'avevamo promesso, ricette semplicissime, olio. Un po' di olio, anche perché siamo in Toscana, va messo, vero ragazzi? Olio d'oliva. Ma lo sapete che con l'olio si fanno anche delle bellissime creme per il viso? E anche per i capelli di questi ragazzini quando tornano dalla piscina? Se conoscete qui la cucina dell'Enterprise per far partire i fornelli, qual è? Dovrebbe essere questo qua. Intanto chiediamo a Federica, Federica, che c'è un ingrediente che vedo che fa parte di questa ricetta. Sì, il mio è il sale rosa. Bellissimo. Joy invece ha? Salsa di spezie. No, è una salsa di... È il curry, è il curry. Perché? Perché noi ci siamo un po' preparati ed è una salsa fatta con delle spezie. Ecco perché c'è il quipro qua. Ma questo è il bello della diretta e poi sono bimbi e sono naturali e questo è bellissimo così. E poi abbiamo Niccolò che invece ha? La salsa di curry. E la salsa di soia. E oggi è tutto curry perché ci piace questo colore. Perché Zoe? Che colore ha questo curry? Beh, giallo... È un giallo carico, un giallo autunnale per cui... E poi abbiamo Damiano che metterà in questa ricetta? Le sottilette. Ecco qui ci stiamo impiccando con questo microfono ma va bene così. Sì, allora Alessandro, il pollo lo stai mettendo in questa casseruola, fantastico. Io comincio a mettere il pollo a cuocere nella casseruola. Aurora, ma il tuo babbo è sempre così bravo a cucinare? Sì. Sì? Ma senti, ma te stai imparando da lui anche a fare animazione, vero? Sì. E cosa ti piace fare? C'è qualcosa che ti piace più di tutti? Tipo le bolle di sapone che vanno per la maggiore? Sì, forse le bolle di sapone. Ok, Zoe, invece, te una tua ricetta fatta con ingredienti orientali l'hai mai provata? Sì, certe volte. Certe volte, benissimo. Senti, ma chi ha che cucina in casa? Il papà. Il papà. Eh, qui rompiamo un po' gli schemi, né mamma né fratelli maggiori ma il papà. Finalmente dei papà cuochi che si rimboccano le maniche e aiutano noi donnina ai fornelli. Federica, invece, senti, io ti racconto una cosa su questo signore. Anzi, la racconto a tutti voi. Non è soltanto un animatore, ma è anche un cuoco rock. Perché lui ha una banda musicale, e tutto questo serve ovviamente nell'animazione. Come si chiama? Si chiama Racchi e Poveri. Racchi e Poveri, che la dice tutta. Perché tu cosa fai in questa... Diciamo, la musica, il genere di musica che facciamo è vario. Variamo dal jazz al blues al rock al heavy metal. Sono parodie di brani famosi, per lo più. Per esempio... Tu come ti parei di stare i passanti. Sì, 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 perché in realtà abbiamo un repertorio di oltre 400 pezzi. E poi noi, allora, cosa mi dite? Vi potrebbe piacere? Magari... Allora, visto che mi dite molto, io prendo la palla al valzo. Perché? Brano preferito da Damiano? Possiamo intanto mischiare, Damiano? Intanto che pensi al tuo brano, intanto. Il microfono. Eh? Ti passo un attimo il microfono. Un brano che ti piace. We were a rock you. Ah, va bene, che non conosco, però a te non ce la cantichi, vero? No, va bene. Invece tu, Nicola? A me la musica in genere non mi piace molto. Ma la canzone che mi piace di più... Le canzoni pop. Le canzoni pop. Senti, ma c'è una tua cantante che ti piace? Non so, da Britney Spears, Christina Aguilera, oppure? Fedez. Fedez, ragazzi, qua siamo... È pasta per i nostri denti. Io direi di provare a cominciare a mischiare gli ingredienti, anche se il pollo, ahimè, è il bello della diretta, sta cuocendo, ma non troppo velocemente. Ecco, prima di mescolare, un po' di salsa di soia sul pollo. Un po' di salsa di soia. Allora, lo spostiamo dai fornelli, perché sennò i ragazzini si potrebbero bruciare. Lo mettiamo su questo simile poggio a pentole. Allora, salsa di soia, avanti Nicolò. Prego, Tom Soia. Io direi un po' di sale rosa ci sta, dai. Anche un po' di sale rosa, non troppo. Allora, Federica, mettiamo questo sale rosa e mischiamo, aiuta tu Alessandro. E poi Zoe, con il curry. Qualche chicco appena, qualche chicco appena, basta, basta. E poi arriva Damiano col formaggio, velocissimamente, perché in cucina bisogna correre. No, 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 tutto no, un paio di manciatine. E così passiamo la linea, ancora una volta, ad Anna Maria, che conclude questa ricetta. Aspettiamo alla fine. Aspettiamo alla fine quando li abbiamo mescolati. Io intanto lascio lui, tranquillamente. Allora, come si fa a resistere a un'organizzazione così composita come quella di Simone e tutti questi bambini? Quali bambini? Siccome hanno ormai una certa consuetudine con il dottore, non vorrebbero venire di qua? Io lo sento. È vero che vogliono venire di qua i bambini. I bambini gradirebbero sostanzi. Questi bruciano i peperoni. Vediamo. Guarda, che mi giro io, vai. Tu mi avevi detto che dovevi fare dei giochi particolari, ma dove sono questi giochi? No, no, niente, i giochi, che questi in realtà non sono semplici bambini, sono dispense, vero? Dispense di che? Di tutto, di tutto. Vieni, vieni Zoe. Damiano, vieni qua anche tu, vai. Tieni, c'è il dottore qui per te. Vieni, 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 vieni. Vieni, Damiano, vieni, entra qua, qui con le cose, vai. Sì, a questo punto, cosa bisogna fare per concludere questo piatto? La sottiletta, quando si mette? Diciamo, alla fine, mescoliamo il pollo con i peperoni e poi mettiamo la sottiletta. Ah, perfetto. Allora, bene, facciamolo velocemente perché noi dobbiamo andare fra poco in pubblicità e soprattutto ci aspetta anche la bavarese, va bene? Ma questi giochini che dovevi fare tu? Ti dicevo appunto, questi bambini sono bambini pieni di sorprese, ma pieni, proprio pieni. Cioè, basta frugare nell'orecchio di un bambino e viene fuori una carota. È incredibile, vero? La vuoi mangiare te, Zoe? Ecco, Zoe la vuoi mangiare. Sei sicura che te avevi già carote? Le orecchie punissimi più perché è un problemone. No, ma che fai, Zoe? È stato nell'orecchio. È stato nell'orecchio. Oh, mamma mia, Zoe. Dai, sa di serume. Ma questo, e poi che altro giochino c'è? Ma poi, tanti, te l'ho detto, i bambini sono creature meravigliose perché, vedi, te... Ma scusi, un uovo, ma in questo caso un uovo, cioè... Continuo a dirti che te hai dei problemi, eh. Scusate, guardiamo un attimo. Ma ti laghi la mattina o no? Sì. Però non è che l'hai detto troppo convinta, io non vorrei dittelo. Sentiamo Zoe se si mette la crema, Luca, sentiamo un po'. Ti incremi dopo la doccia, Zoe? Sì. Davvero? Che crema usi? Si può mescolare, sì. Non so perché non so leggere. Non sai leggere, va bene, va bene. E Damiano, allora, ci siamo, siamo pronti per fare questa canzoncina perché io ti ho visto che eri molto, molto propenso a cantare. Canta un po', dai. Qui c'è una banda. Vai fuori tempo te, eh. Mi puoi rovina la canzone. Per forza, lui non ha orecchio, c'ha tutta altra roba nell'orecchio, nelle orecchie, per cui... Allora, vieni. Sei tu che dovevi dare il là delle canzoni, eh. Sì, è vero, io sono rimasto un po' indietro, mi ha spiazzato con i Queen perché qui si fa, insomma. No, i Queen sono la mia passione. Allora, cantami una cosa a te. Forza, ha fatto a Turchina per me. Vai, che sono sempre bambina. No, vabbè, non, diciamo, i brani nostri, quelli che conosco io, sono brani un po' goliardi. Ah, ah, ho capito che perfettamente, ho capito. Dai titoli un po', posso citarti qualche titolo? Per esempio, è uno dei più carini e si intitola L'hai pestata. È tutto dire. Ah, ah. Beh, è un po' differente con i Queen, eh, c'è quel leggero gap. Scusate un attimo, Damiano, prego, continua. Ricanta ancora, vai. Sì, però, Damiano, quanti anni hai? Scusate. Sempre... Eh, ma non lo posso dire perché... No, lo puoi dire perché... Ah, già, è vero. Però, grossomodo, ce l'avrà 50 perché amare i Queen... Hanno indovinato ieri. Hanno indovinato ieri, per cui si può dire tutto tranquillamente. No, no, ma ne avrà una cinquantina perché se gli piacciono i Queen, ragazzi, è un intenditore di rock vero, eh. Eh, sì, allora, Freddie Mercury for life. Forza, sentiamo lei la bella, la Federica. Vai, che canti? Vai, Fede, te cosa canti? È una canzone di Mika. Mika? Chi è questa Mika? Mika, Mika, Mika. Ma scusa, io che ne so. Prego, allora, canta questa canzone di Mika. Mika, boh. Mika sono là su, io che... Vai. Assisto where you let me, oh happy ending. Finita. No, perché non me la ricordo tu. Ma come te ricordo, forza, forza. Zoe, forza, te, vediamo a Zoe. Vai, Zoe. Canta qualsiasi cosa, una poesia, qualcosa devi cantare. Non so che cantare. Va bene, come l'ho detto, lui abbia già cantato, hai già cantato Aurora, canta te. A questo punto vieni. Viene anche lei, canta. Canta te, Luca. Così il dottore canterino. No, 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 io sono un grande cultore, ma non vogliamo rompere gli obiettivi delle telecamere. No, 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 non è caso. Canti te, va bene. Ti ricordi cosa? Vai. Corriere a salvarti a te. Eh? Cos'è? Non ho capito. Chi cos'è questa cosa? Corri la vacca. No. Corri la vacca. Ma che cos'è cantato? Oddio mio. Santo cielo. La canzone di Violetta. Ah, Violetta nel senso. Faccio un commento a Violetta. Sì. Vai. Allora, a me non mi piace. Ma io guarda, non so manco chi è questa Violetta. Eh, è di un telefono. Ma dai, Violetta. C'è Violetta. È su tutte le borse, su tutte le magliette. Su tutti gli zani. Su tutti gli zani. È una roba. Ce n'è anche una a casa io. Hai una Violetta a casa? Brutta. Senti, chi te hai detto scusami? Come le viole. Come le viole. È brutta. Te che ne pensi questa tizia? Eh, ma di questa tizia, di Violetta, penso che deve smettere di fare le canzoni e a posto di fare le canzoni fare qualcosa di più interessante. Per esempio, hai un suggerimento tu per questa Violetta. Violetta, ascoltaci. Sette milioni di dischi e noi... Ah, Martina S. 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 Qui ho tante socerine, però. S. 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 Allora, te gli consigli un appello a questa Violetta? Che deve fare? Cucina, Violetta, invece di andare a cantare. S. Infatti. Dimmi, lei canta? Canta tutta stonata. Va bene, va bene, basta, 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 stop. Tu amavi questo Fedez? Chi è la fasta? Fedez. Fedez. Chi è questo Fedez? È un cantante hip hop. Cantami qualcosa di questo Fedez. Senti, va bene, come ho detto a questo punto, senti, è un rapper. È un rapper, giovanotto. Fedez è un rapper. Sa tutto lui, tieni, è Zoe. Lui è Zoe. Fedez ha X-Factor. Ah, Fedez ha X-Factor con gli occhi. Guardate un'inquadratura a Zoe. Tante volte avesse gli occhi poco sgranati. Forza, Damiano. Ti dico il ritornello. Aspetta, scusami. Ti dico il ritornello che lo fa una sua conoscente, perché praticamente canta insieme a lei questa canzone. Però soltanto che io non so la parte di Fedez, è soltanto il ritornello. Insomma, fa qualcosa, canta qualcosa. Mamma mia, bambini, forse è meglio un attimino, preparatevi meglio una canzone che è Viva la pappa col pomodoro. La sapete fare? Forza, forza. Su, 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 via. Viva la pappa, al pomodoro. Mi dà la pappa, al pomodoro. Io tutta contenta. Questa la sai, eh? Viva la pappa, la pappa, al pomodoro. In questo caso il pollo è peperon. Pubblicità. 。